Il luogo della rappresentazione Il luogo della rappresentazione è un vasto spazio aperto che viene trasformato in un angolo di Gerusalemme. La reggia di Erode, il Sinedrio, il Pretorio di Pilato, l'Orto degli Ulivi, il Cenacolo, il Calvario. Ogni aspetto dello spettacolo è affrontato con le sole risorse umane e tecniche locali, il progetto scenografico, la regia, la scuola di recitazione, l'allestimento, la confezione dei costumi e degli accessori. Si tratta certamente del più grande spettacolo corale d'Italia. Il testo della rappresentazione è opera quattrocentesca in versi del fiorentino Giuliano Dati ed è interpretato da attori dilettanti che lavorano e si preparano con serietà ed edizione. Dal 1816 ogni cinque anni, da giugno a settembre, oltre 400 sordevolesi danno vita alla sacra rappresentazione della Passione di Cristo. È importante sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa originale cultura locale e l'impegno che essa suscita ancora oggi negli eredi di questa tradizione. Sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa tradizione. Sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa tradizione. Sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa tradizione. Sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa tradizione. Sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa tradizione. Sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa tradizione. Sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa tradizione. Sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa tradizione. Sottolineare il carattere profondamente libero e autonomo di questa tradizione. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti.